benvenuto nel bazar atomico un podcast per imparare di tutto da chi ne sa più di tutti mistici scienziati imprenditori eroici maghi filosofi esploratori e artisti uomini e donne straordinarie selezionate per la potenza e la follia dei loro progetti indipendentemente dal numero di followers che hanno io sono davide francesco sada sono l'autore della bestseller la felicità fa i soldi e dal 2010 dirigo l'accademia di formazione finanziaria money surfers la mia vita è sempre sembrata un bazar ho provato di tutto sono stato un wannabe rock star un giornalista un regista e persino un rampante marketing manager e nonostante mi sia sempre impegnato a fondo i risultati che ottenevo erano sempre scarsissimi caduto in depressione iniziai a divorare libri di self help un sacco di fuffa ma poi un giorno in uno di questi lessi una frase di jim ron frase che cambiò la mia vita per sempre non siamo altro che la media delle cinque persone che frequentiamo più spesso fu come un'esplosione atomica nella mia vita non accadeva nulla perché per un mix di superbia e paura di uscire dalla mia comfort zone sociale tendevo a fare tutto da solo o con le persone che conoscevo già quando mi sono imposto di incontrare e collaborare con uomini e donne straordinarie che non conoscevo ancora anche la mia vita è diventata altrettanto straordinaria per questo ho creato il bazar atomico un pretesto per poter continuare a conoscere persone sempre più ispiranti e grazie alla tecnologia condividere i loro insegnamenti con il resto del mondo buone deflagrazioni ospite di oggi è paolo pecere insegna storia della filosofia all'università roma 3 e si occupa dei rapporti tra filosofia e scienze della natura e psicologia in età moderna e contemporanea tra i suoi libri c'è soul mind and brain from the scart to cognitive science e a critical history edito da springer 2020 in corso di traduzione italiana e il manuale di filosofia per licei vivere la conoscenza ha pubblicato i romanzi la vita lontana e risorgere ma soprattutto e ne parleremo subito all'inizio della puntata il saggio narrativo il dio che danza viaggi trans trasformazioni edito da nottetempo 2021 prima di iniziare come al solito ti ricordo che il bazar atomico è prodotto dalla mia azienda di formazione finanziaria consapevole money surfers dove dal 2010 insegno la felicità che fa i soldi ebbene sì invertendo i fattori il risultato cambia tantissimo ti ricordo anche che la regia è curata da giovanni valentini videomaker raggiungibile su giovanni trattino valentini punto com che il nostro web wizard c'è quello che sta lì a smanettare su internet in studio e mario piccaluga fotografo raggiungibile su nobile digitale punto com che il mio styling è curato dalla factory tiny idols e che in studio noi beviamo solo caffè carnera mi raccomando ragazzi mi raccomando ragazzi se volete supportare un minimo questo disgraziato podcast iscrivetevi al canale youtube cliccate la campanellina così vi arriva la notifichina ogni volta che facciamo una puntata soprattutto adesso che ne facciamo uno ogni tre giorni e la stessa cosa su spotify seguiteci e campanellina anche su spotify come se non ci fossero domani adesso però rilassati e goditi lo show bentornato paolo eccoci quello che ti volevo chiedere appunto nella fine della prima parte un po questo è una cosa che magari non c'entra un cazzo però te lo chiedo lo stesso perché mi ha molto colpito ieri su 18 novembre non è vero noi ieri qualche giorno fa su internazionali punto it è uscito un articolo che mi ha molto colpito che si intitola la meditazione che fa bene al capitale e c'è questo ronald purser che è un docente adesso non so di dove magari lo vado a vedere dopo sotto però non è importante è stato pubblicato sì esatto vabbè chi se ne frega lo google atesi si scrive proprio ronald purser docente e che ha un punto di vista interessante proprio rispetto a quello che dicevamo cioè questa moda della mindfulness quindi della meditazione come quasi un una terapia per sopravvivere lo stress contemporaneo ad accettare tutte le brutture della nostra società tecno capitalistica che sta di fatto producendo una rivaricazione fare che poveri oramai dei livelli assurdi noi viviamo una città dove questo si vede tanto sempre di più e dove appunto per il filosofo chul hoan siamo la società della stanchezza quindi dove evidente dove c'è un bombardamento di informazioni di bisogni indotti insomma e questo professore per se dice come si inserisce la meditazione in tutto questo quasi come un alleata di questa di questa dinamica oppressiva nei confronti delle persone è quasi come addirittura una sorta di sonnifero di appunto antidepressivo che di fatto però addormenta le persone e gli fa accettare una condizione di frustrazione anzi quasi tirò di più rendendole quasi colpevole oppure dice ma se stai male vuol dire che non sei abbastanza evoluto devi sapere accettare la situazione vivere nel presente tipo il mondo è una merda accettalo vivi nel presente medita e vedrai che andrà meglio e lui dice che questo invece è una situazione che porterà e sta portando ad un peggioramento della situazione mentre invece i rituali di cui tu ti sei occupato nel tuo libro avevano un po questa connotazione non di una tecnica solamente individuale ma che richiedeva come detto in fine di puntata quasi un'organizzazione autogestita di persone che quindi facevano molta paura a chi deteneva il potere come abbiamo detto nella prima parte mentre invece la meditazione va bene a tutti tant'è che viene sposata da tutti i capitati da tutti quelli che lavorano in borsa eccetera eccetera no molto bella questa domanda tra l'altro non ce lo siamo detti ma è un tema su cui sto lavorando per un nuovo progetto quindi molto molto interessante allora diciamo stavamo dicendo anche la puntata prima le cose non sono semplici nei re bianche no anche nei rituali di possessione nelle feste eccetera ci può essere un aspetto tu hai detto non hai detto così ma insomma anestetico diciamo che in cui poi in realtà la l'energia che entra in conflitto con la vita che ordinariamente si conduce nelle nostre società che sono certamente sempre più società dominate dal burnout dall'infelicità in realtà disinnescato e però è anche vero che solitamente in tutte le cose che ho raccontato e che ho visto c'è una dimensione sociale in cui poi si riconosce che anche gli altri in cui in quel momento ci si sente più vicini perché c'è un momento di nudità di liberazione io ti faccio vedere come mi sento ti faccio vedere chi voglio essere e allora ci si riconosce nel fatto che c'è un bisogno condiviso e questo poi ha dato luogo anche a come dire alle preoccupazioni politiche di chi invece è interessato a mantenere l'assetto sociale la disuguaglianza la meditazione un discorso analogo nel senso che secondo me non è detto certamente che ci sia che sia soltanto come dire un dispositivo per tenersi buoni e stare alle regole disciplinati certamente è detto bene sono d'accordo il fatto che si tratti esperienze di tecniche individuali può andare può facilitare di andare in questa direzione ti faccio un esempio c'è la meditazione di origine orientale dico oriente che già è un termine orientalistico di origine indiana è arrivata in america negli stati uniti a un certo punto no con una serie di fatti eclatanti anche una grande moda probabilmente c'è anche un nesso con la stagione degli psichedelici concerto vengono vietati e molte persone per allungere stati alterati di coscienza si rivolgono alla meditazione come secondo step ma rishi il famoso maharishi arriva in america i beatles erano andati in india c'è questo scambio a questo momento pop e new york times dice questo è il guru dell'occidente e arrivano maestri vietnama dall'india e così via però la meditazione in america viene medicalizzata molto presto nel senso che si i neuroscienziati cominciano già agli anni 60 a vedere che succede al cervello di questo vedi il cervello raggiunge uno stato alterato di coscienza di benessere sviluppiamo una tecnica per stare meglio eccetera e questo come dire sradicato completamente dal suo contesto culturale originario in una società individualistica capitalistica fortemente competitiva porta al rischio che hai detto tu infatti in tanti resort dove si va a fare meditazione in america che succede io mi sono visto anche tanti siti eccetera ho fatto un po di ricerche questi in genere hanno dei nomi che intanto evocano la natura clear sky meditation center e così via uno si vuole riconciliare con la natura no e quindi che fa va in questi resort costosissimi oppure infatti c'è chi lo fa in un centro di meditazione in città va sul tappetino e si mette a meditare per stare meglio il rischio è quello che hai detto tu che secondo me per evocarlo un po con delle parole spicce della nostra vita quotidiana questa idea che di staccare la spina è un'espressione che io detesto perché se tu stacchi la spina vuol dire che tu sei una macchina ogni tanto ti collega come dire e ti accendi e soprattutto ancora peggio ricaricare le batterie è una cosa che se uno mi dice ricarica le batterie per me è finita incredibile credibile perché siamo a metropolis allora io sono un robot e devo ricaricare le batterie e la se la meditazione è come si legge in alcune delle aziende che poi la promuovono negli stati uniti una tecnica per navigare nel nostro mondo moderno per ricaricare le batterie e vabbè allora come dire effettivamente è un anestetico effettivamente è una cosa che fa anche il gioco del del sistema sociale che magari ha portato a quello stesso stato di malessere quindi in questo senso il rischio che tu hai menzionato e sì certamente c'è non l'ho menzionato io ho letto questo articolo io probabilmente sono uno dei responsabili in italia di questo tipo di atteggiamento perché il mio progetto di formazione in maniera del tutto spontanea si chiama mai detto ricaricare le batterie non ricarica le batterie io dico cosa dico fare reset boh che tra l'altro big reset anche la parola che oramai allude ben altre cose no vabbè allora nel progetto mio di formazione finanziaria ma in maniera totalmente spontanea ho portato me stesso cioè a me la meglio medito dal 2010 no e è vera prima si scusa da prima si 2000 o si no money surface ha iniziato il 2010 medito da quando ho trent'anni quindi essendo 47 si trama penso ma tanto tempo fa e mi ha dato degli incredibili benefici dal punto di vista della mia capacità di gestire le mie finanze perché evidentemente no ma tutto è cambiato nella mia vita quando iniziato a meditare quindi effettivamente mi è venuto spontaneo fin da subito parlarne quando facevo i miei corsi di investimento di trading no diceva ragazzi comunque all'inizio la buttavo lì come una roba diceva appena finito di meditare la gente mi chiedeva che fai meditazione se faccio meditazione mi è cambiata la vita tantissimo ringrazio il cielo che me l'ha data costa costo questo dono e quindi gradualmente abbiamo iniziato a inserire i nostri corsi in maniera veramente molto spontanea però poi mi sono accorto con gli anni che sta roba diventato una moda c'è gente che non aveva un cazzo a che vedere col mondo della spiritualità ha iniziato inserirla dovunque non solo ha iniziato a inventarsi delle meditazioni mettendosi il proprio nome si è volgarizzato tutto ed è diventato una moda e si è trasformata in qualcosa come hai descritto bene tu totalmente avulso dalla cultura da cui nasce che quello è veramente interessante cioè già il fatto che gli cambiano nome mindfulness e gli diano un nome così asettico e è interessante io non ho un'opinione sicura su questo perché effettivamente io ti do la mia la mia esperienza io ho iniziato a meditare perché sono un fan sfegatato da sempre di david lynch il regista no e un giorno dal suo sito lo stavo per nominare c'è a un certo punto questo faceva tutte robe nere oscure compaiono sti santoni con la barba dico guarda come è nato un nuovo progetto strano dei suoi personaggi invece davvero cioè lui parla di meditazione allora mi sono interessato iniziato a praticarla ed effettivamente io devo essere sincero utilizzata proprio a livelli utilitaristici cioè mi serviva perché la sera suonavo fino alle due di notte mi sballavo maniera molto dionisiaca e la sera dove andare in ufficio a lavorare e la meditazione mi aiutava a non abbioccarmi in ufficio e mi rendeva più produttivo ma poi la mia curiosità mi ha spinto a capire ma che cazzo succede dentro di me ma cos'è sta roba che mi cambia così tanto la mente che me la rende più gradevole la vita e allora io ho iniziato gradualmente ad avvicinarmi a tutta la cultura che stava dietro alla meditazione da da lì poi non ho mai più smesso ma infatti come ti dicevo il rischio di cui abbiamo parlato poco fa è un rischio certo c'è altro da dire cioè ovviamente nero e bianco la meditazione trascendentale che citato tu certamente una tecnica che per esempio lynch a un certo punto ha scoperto vabbè poi insomma si è diventato un sostenitore non lo so non lo conosco c'era i suoi interessi ma sicuramente la scoperta come risorsa di creatività di benessere e perché effettivamente c'è una dimensione che prima non ho menzionato se c'è il rischio no di come dire di utilizzare tutto questo come un semplice strumento per sopravvivere una vita che peraltro non ci piace c'è anche una dimensione che quella che poi originariamente associata alla meditazione che ancora una volta un po come le trans di cui parlavo prima ti porta in uno stato mentale in cui tu ti rendi conto che c'è qualcosa che ti eccede e allora senza parlare di india perché poi noi ci appropriamo di quello che vogliamo non esistono le tradizioni pure prendiamo la spiritualità tu hai detto la parola spiritualità permettimi di citare un filosofo siccome per una volta essendo non canta ufficialmente no no canta no canta e vietà no scherzo è no no perché io non ho mai letto cante tutti vengono qua citano cante faccio finta di averlo letto però spesso parlate te l'ho detto subito no infatti william james william james filosofo psicologo americano fu tra i primi che a un certo punto si è interessato di questo fenomeno non c'è che c'era una nuova spiritualità che si stava formando una spiritualità senza teologia per esempio quella del suo padrino un altro pensatore americano che si chiamava ralph waldo emerson che oggi un po abbiamo dimenticato ma era importante ma insomma lui diceva cosa che è cruciale in queste nuove forme spiritualità in cui puoi mettere insieme l'india la natura altre cose la reverenza per qualcosa che ti trascende e allora qualcosa che trascende l'individuo che evidentemente quindi in quello stato si attinge energie ma anche si rende conto che non è tutto come dire il senso di tutto si 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 racchiude nella sua esperienza ordinaria individuale ed è questo che effettivamente può essere una chiave diversa che si apre dalla meditazione e che molte persone che meditano possono utilizzare anche per poi mettere in discussione la vita ordinaria perché allora allora se il tuo io si come dire anche lì apre verso qualcos'altro e anche qualcun altro e ti avvicina poi agli altri e allora di nuovo può anche esserci un senso come dire di comune interesse anche un cambiamento delle cose non soltanto un recupero delle due energie esaurite la notte prima sì devo dire che quello che penso io è che per esempio marisci che è la stessa meditazione che pratico io io ho fatto l'iniziazione poi mi è stato chiesto se volevo proseguire a fare altre cose sempre io sono un individualista fino a pochi anni fa ho sempre detto no ma a me basta questo cioè non ho bisogno di fare altri rituali tecniche avanzate eccetera però adesso invece capisco l'importanza di inserire una tecnica di sviluppo personale in un ambito più organico cioè all'interno di un movimento di una non lo so di co di qualcosa che ricchi che includa dell'altro che non sia solo la pillolina la mattina la sera di meditazione sei felice no che abbia al suo interno dei connotati proprio di relazione con gli altri relazione proprio verticale quindi con gli altri esseri umani ma proprio addirittura il canto c'è tipo marisci ogni tanto nella loro fanno questi ritorni ci sono questi canti no e però ti deve devi uscire dalla zona di comfort cioè e poi così poco di moda sta cosa ci pensi no perché noi loro infatti della meditazione dicono se noi non siamo una religione noi non siamo una religione perché se tu inizia a inserire dei connotati rituali o ritualistici oppure l'occidentale scappa diceva che è una setta a no che è una religione a no io non voglio io non voglio far parte di una setta non voglio far parte di un movimento e però poi qua io inizio a sentirla questa esigenza di condivisione infatti mi sono iscritto un membership club e vado a ballare guarda come dire intanto come c'è chiaro che noi siamo dentro questa cultura individualista no quindi si parte da qui quindi cioè se tu mi dici guarda c'è un sacerdote adesso io già come dire sono scettico e non voglio subito prestarmi eccetera però come abbiamo detto io introdurrei un altro un'altra dimensione anche la meditazione ti può rimettere in contatto con qualcosa di non umano che puoi dire di naturale di energia anche animali diciamo così un po il discorso analogo quello che facciamo prima molte persone che praticano la meditazione lo fanno anche in questo senso vanno vanno non so fuori città nella natura per riconciliarsi con questo e che facciamo delle vite appunto entriamo nel treno nella metro in ufficio tutto in scatolati di recente ho visto un documentario bello di un di una in cui si parla appunto di etnologi antropologi che sono andati a studiare questi famosi anomami in in venezuela questa popolazione di oggi si parla molto da qui viene davi copenawa che ha pubblicato anche un suo libro in italiano e uno racconta che si era sposato con una indigena una nativa degli anomami se l'è portata in nord america e questa dopo due settimane è scappata e ha detto ma voi vivete in delle scatole io mi alzo la mattina sono abitato a vedere tutte la mia comunità fa certo quindi insomma ma sai quante storie ci sono anche degli indiani d'america che avevano rapito degli e degli americani quindi dei conquistatori e poi quando gli americani li hanno trovati li hanno fatti tornare da loro loro no no voglio tornare dagli indiani d'america questa non è una vera vita cioè no e quindi però dopo di che noi siamo qui intanto e quindi chiaramente la meditazione che va bene per noi inizialmente a questi aspetti che però dobbiamo tenere sotto controllo che non diventi appunto un semplice così appunto rigenerante per fare delle cose che non vogliamo continuare a fare ma magari invece una chiave per aprirci altre possibilità insomma quello mi sembra ancora una volta il punto discriminante è chiaro che nel momento in cui c'è una ancora una volta una gerarchia che si forma la gerarchia questo da una parte come dicevamo prima istituzionalizzare una cosa in fondo le dà un suo spazio un suo riconoscimento però c'è anche il rischio che poi diventi una diventa una cosa che non fa più le cose che vorresti fare tu siamo sempre lì bisogna vedere di caso in caso senza pregiudizi si inserisce secondo me tutto questo ancora di più dopo la pandemia e quello che vedo intorno a me cioè le persone che hanno paura di tornare in ufficio hanno paura di tornare in palestra dopo questi anni secondo me si è radicalizzata questo individualismo non trovi non lo so questo questo non lo so però sicuramente viviamo ancora l'impatto di quello che di quello che è avvenuto e poi se parliamo d'italia sicuramente c'è c'è un grande risorientamento anche anche politico io una cosa che vorrei dire siccome stiamo parlando dalla puntata precedente adesso di perdita dell'io di estasi di possessione di meditazione quindi anche lì diciamo di abbandono dello stato ordinario io vorrei introdurre una parola che va in una direzione diversa che per me importante lo è stato anche il mio libro e che sembra che non c'entri nulla c'è razionalità perché perché poi come stavamo dicendo adesso la parola cominciando a parlare di meditazione c'è un punto che non abbiamo menzionato che noi siamo affascinati da tutte queste cose di cui stiamo parlando perché abbiamo un forte bisogno però certe volte come dire questa nostra debolezza questa nostra fragilità storicamente anche è stato così è qualcosa di cui qualcuno si può approfittare e allora non dobbiamo pensare che vabbè ci manca soltanto di l'oblio il momento di perdita del se l'abbandono dobbiamo anche al tempo stesso e oggi direi più che mai nella nostra società tenere stretta anche la capacità di razionalità critica per vedere che effettivamente qui c'è dionison c'è il charlatano e come si fa cioè come si fa c'è così difficile nella nella nostra epoca fare il filtro tra quello che junk ce l'hai detto anche tu sei nato fine persino in africa nei rituali voodoo si hanno sputtanati e rivedendo c'è trovare la cosa autentica per esempio una cosa autentica che ho trovato quel monastero dove andremo anche noi zen food angeli verso le parti di fidenza sono 20 pochi luoghi dove dove non si percepisce la secondo fine cioè dove c'è un fine meramente di business o di di moda veramente difficile oggi io lui andiamo in in costa rica a gennaio stavo leggendo le planet leggo tra l'altro l'hanno chiuso chissà come mai yoga retreat dalle parti di nosara quindi la zona super cool della costa rica yoga retreat farei yoga e anche rituali con l'iboga psichedelici messo come se fossero come se fosse il massaggio fascia al massage deep tissue massage iboga psichedelico cioè sono inseriti mi ha fatto molto specie questa cosa guarda credito dobbiamo pensare anche tra l'altro che ora si parla di non so rinascimento psichedelico c'è la speranza che si torni a fare ricerca sulle sostanze psichedeliche però nello stesso tempo come dire possiamo anche pensare a un futuro alla philip dick in cui invece tutto questo è diventato già pienamente medicalizzato e viene usato per tenere le persone sotto scacco quindi quello che hai detto tu è una domanda difficile come si fa a discriminare io me lo sono me lo chiedo continuamente perché mi sono trovato continuamente in situazioni in cui cercavo di capire che avevo di fronte e la risposta adesso genera in generale è questa che tu devi cercare di tenere vivo con le persone quello che è l'interesse autentico perché spesso non puoi dividere il buono e il cattivo come se questi sono gli autentici e questi sono i falsi spesso questa lama taglia a metà le persone ti faccio un esempio io l'estate scorsa sono andato in una comunità indigena in amazzonia e una di quelle che praticano quello noi chiamiamo l'ayahuasca ora siccome il mondo è globalizzato ma direi da da qualche secolo non esiste praticamente la possibilità che tu arrivi in un posto che non è casa tua e non trovi esseri umani che per la loro caratteristica di specie siamo fatti così hanno anche interessi come dire terra terra come anche interessi economici a lucrare su un tuo interesse su una loro tradizione che sanno che tu apprezzi quindi quando uno va in un posto così anche se fa dieci ore di barca e non c'è nessun altro trova persone che si aspettano che possano avere un beneficio materiale da te ora qui tu dici no ma è tutto fregato tutti i ciarlatani me ne torna a casa però invece anche tu faresti questo il che non toglie che la cosa per cui vi siete trovati lì è che a un certo punto l'umanità ha scoperto delle esperienze liberatorie e le volete condividere allora ecco lo sforzo è di cercare di prendersi dalle situazioni delle persone lato autentico e stare sempre attenti che ci può essere noi stessi siamo venire inevitabilmente attirati verso il lato in questo senso in autentico e allora quando c'è da come dire fare un compromesso farlo però stare attenti all'idea della purezza perché tu prima citato le sette se uno prende le grandi sette oscio le cose americane david koresh scientology cioè quello che succede sempre che i più fedeli dicono sempre che il maestro è di una purezza è buono no è senza macchia e poi vedi che era veramente un mostro cioè quindi meglio a un certo punto che qualcuno come dire giochi in qualche modo più scoperto insomma o comunque che traspaia con l'ingegnerità per cui non essendo noi perfetti se io ti do ti dico ti ospito in questa in questa cosa che il mio popolo fa perché ti voglio accompagnare in questa esperienza mi aspetto anche che tu mi dia una compensazione è successa la stessa cosa ovunque anche c'è questo documentario su netflix come cambiare la tua mente ovviamente tratto dal libro famoso di adelfi in cui si va ogni puntata a indagare uno psichedelico quando arriva il momento del peyote racconta la storia di come è andata il peyote di come si è diventato poi noto nell'occidente e c'era questa questa donna che faceva questi rituali adesso purtroppo non mi ricordo esattamente il luogo del messico che ingenuamente ha iniziato a condividere queste questi rituali queste sostanze con un occidentale che era andato giù e poi da lì è nato business pazzesco e sono arrivate carovane di e quello sicuramente si è totalmente imbastardito però come dici tu giustamente questo non vuol dire che non ci sia del buono in quello non è che perché c'è dietro un bi interessante quello che dici non ci avevo mai pensato nel senso non c'è mai la cosa c'è questa divisione arbitraria è impossibile ma sai poi voglio dire intendiamoci mi è capitato nei miei viaggi di andare in dei luoghi in cui relativamente non arrivava nessuno e ancora trovare delle situazioni in cui semplicemente la comunità mi dice ma sì ma entra tra tra noi tipo in alcuni santuari del pakistan dove si fanno le danze sufi e tra l'altro c'è una nube di hashish enorme uno non se l'aspetta perché di stare al lavoro è un paese ortodosso donne e uomini separati non si guardano negli occhi eccetera invece lì dentro festa tutta la notte la gente che di che girano e li chiamiamo i derbisci la musica e tutto e ti invitano ti sei bene accetto non devi pagare oppure non so ma anche in alcuni villaggi africani il paido gone che oggi è irraggiungibile perché purtroppo c'è una situazione di grande conflitto nel nord del mali anche lì insomma a un certo punto quando arrivi in un paesino così loro fanno a un certo punto si mettono tutti a suonare donne bambini anziani e giovani tutti insieme e tu puoi partecipare perché lì ecco la dimensione del business non si innesca quando sono visitatori occasionali perché come dire non ci sono di presupposti è come se tu vendi l'aranciata ma se ne viene uno al mese non non fai un business e allora niente prenditi l'aranciata però tutte le volte in cui non ci sono degli ostacoli geografici storici che rendono molto sconsigliabile o difficilissimo raggiungere un posto per esempio i santuari sufi ci hanno messo le bombe talebani quindi diciamo non è che proprio il tour operator te li raccomandano quando sono andate un po diciamo preoccupato e allora questo può succedere come organizzi i tuoi viaggi sono molto organizzati perché sai bene che andrà a incontrare una determinata tribù gli mandi un'email cioè fai fai schiacci il tasto book quindi prenota no no allora intanto sta un po cambiando questo diciamo quando ho cominciato a fare questo tipo di viaggio ero totalmente auto e disorganizzato e quindi poi insomma andavo lì a passaparola cerca i posti magari mi leggevo prima cose e poi cercavo di trovare dei contatti perché importantissimo ovviamente conoscere le persone perché se tu per esempio il teyam in india anche lì c'è una turisticizzazione se tu vai in kerala se ho qualcuno che sta ascoltando dice voglio vedere queste persone dipinte in rosso in queste armature che diventano dei lo puoi fare ma se tu arrivi in kerala non conosci qualcuno che ti porti come privato osservatore in questi cavu che sono i tempi dove autenticamente ha luogo questa performance un'agenzia turistica ti ci porterà e poi magari sarà anche interessante perché quelle ancora comunque ti portano a vedere questa cosa ma col tempo diventerà sta già diventando qualcosa che spesso lo mettono direttamente in scena su un palco in un festival io ho sempre evitato queste cose tutte le volte che ho potuto e quindi sono andato anche a fortuna tante cose non sono riuscito a farle altre volte ho avuto degli enormi colpi di fortuna o comunque ho incontrato persone chiedi per strada uno vede che sta in lattice che fai chi sei insomma quando ero in pakistan in tanti posti recentemente sono stati in nigeria non c'è nessun altro in quel momento neanche dato un bianco di solito e allora poi questo suscita la curiosità e poi le persone come dire ti informano fai da solo adesso negli ultimi anni da solo in compagnia secondo dei casi però mai in gru in gruppi ma in gruppi anche perché poi diventa tutto ancora più complicato tra l'altro anche lì se tutti presenti in gruppo ovviamente ecco lì subito nasce un interesse economico diverso no ero andato in un gruppo in quattro persone per esempio quando ero andato nel paio dogon in mali e infatti c'era una guida che si era preso dei soldi e non aveva nulla a che fare con i dogon era un mediatore tra l'altro un personaggio sgradevole e che però era stato l'unico modo in quel momento per dei disorganizzati turisti diciamo alla avventura per arrivare in quel posto a meno di non affittarsi un fuoristrada e partire poi tra l'altro non è che tanto tempo per viaggiare posso andare due mesi in africa come facevano gli esploratori dell'ottocento quindi devo anche sbrigarmi no e quindi qualche volta si cerca un po di facilitare le cose però insomma quindi è difficile negli ultimi tempi negli ultimi anni poi ho cominciato a scrivere di viaggi col tempo ho allacciato un sacco di contatti ho conosciuto guide altri che fanno una cosa analoga guide che portano in posti inverosimili come per esempio ci sono agenzie che ti portano in siria insomma di posti anche in cui c'è una guerra in certi casi allora ho dei contatti e magari poi mi faccio aiutare e arrivo con qualche numero di telefono con qualcuno da incontrare così insomma in certi casi se ci sta per esempio l'antropologia di mezzo provo attraverso colleghi a trovare appunto un'entratura di questo tipo perché per esempio in brasile tutti questi culti afroamericani sono un patrimonio per cui tutti se uno fa un dottorato in antropologia l'ottanta per cento dei dottorandi studiano questo quindi basta che tu parli con un dottorando che starà tipicamente in un paese quest'estate ho conosciuto uno che fa il santo daime questa chiesa dell'ayahuasca e lui fa cristiana ma che prendono l'ayahuasca esatto fanno le messe con l'ayahuasca e questo era un ragazzo che appunto abitava vicino a san paolo in brasile mi ha detto ti ti informo un po se vuoi andare vai là se vieni vieni da noi è bellissimo perché lui è sia uno studioso sia un partecipante quindi insomma cerco di trovare come dire di evitare i mediatori turistici quello sicuramente e hai ti sei mai trovato una situazione particolarmente pericolosa dove hai detto forse qua non ne esco bene beh in alcuni paesi sicuramente dei rischi ci sono e per esempio in pakistan certamente sono stati in varie zone dove era chiaro che non c'era nessun tipo di controllo come quello a cui noi siamo abituati nel libro parlo anche del nord del pakistan dove sono andato un po sulle tracce del di dioniso perché lì c'erano andati i greci c'era leggenda che ci sono dei discendenti dei greci che alessandro magno era passato da quelle parti però lì adesso è una zona in cui a un certo punto tu ti rendi proprio conto che non c'è uno stato e poi in certi tragitti che ho fatto in macchina ti entra un soldato in macchina col mitra senza chiedere perché non puoi altrimenti circolare che già mi promette male ma è già qualcosa in altri casi insomma sì poi se uno va così mi sono mi sono anche perso se per questo in tanti posti nella sì diciamo in paesi in cui diciamo la situazione politica un po è preoccupante per esempio ho citato il pakistan lì c'è questa situazione i santuari sufi appartengono a una corrente importante dell'islam straordinaria certo però nello stesso tempo che è successo uno deve sapere dove sta andando che sta succedendo in quel momento ecco questo è molto importante quello che non buttarsi ciecamente come si fa a non finire nei telegiornali che poi si arrabbia la gente dice ah dobbiamo pagare il riscatto per paolo pecere che sono andata infogliato no scherzo cioè come che tipo di in un momento caldo tu insomma non fai un viaggio di questo genere se non sei un giornalista uno che deve fare qualche cosa deve deve riferire perché questi non sono i miei scopi quindi siccome c'è uno scopo di ricerca personale cerco di evitare di creare problemi a chiunque prima prima ancora a me stesso per cui per esempio quando sono andato lì e ci sono andati informandomi un po mi sono mosso un po con cautela però appunto lì è successo che dopo la guerra in afghanistan i talebani sono andati in larga misura in pakistan siccome questi sono appunto dei fondamentalisti e anche entrando diciamo imparzialmente in conflitto con con la società pakistana e trovandosi di fronte a questo sufismo che invece ma ha una tradizione universalistica di grande apertura hanno messo le bombe nei santuari facendo stragi pochi anni prima che sono andato io però insomma qualche anno prima insomma quindi quando ci sono andato ecco ho cercato di chiedere ma insomma si può andare che zona è questa la ore che è una città al confine vicino al confine con l'india la città poi di kipling insomma una città straordinaria e quindi così poi l'altra cosa l'altra cosa che bisogna sempre sapere e anche diciamo tu che tipo di come ti presenti quando fai un viaggio di questo genere perché abbiamo detto fino adesso le cose che mi interessano e mi affascinano per le circostanze che abbiamo detto spesso sono associate a condizioni di povertà di marginalità in genere non vai al centro storico della città ma vai ecco nelle favela di di salvador de bahia appunto nel santuario con la zona franca dentro dentro alla ore oppure vai in una zona al confine fra il perù e il brasile quindi dove sostanzialmente anche lo stato non esiste più ora che succede è chiaro che se arrivi in un contesto di questo genere con i dollari che mi cadono dalle tasche vestito non è tutto così col cannone della macchina fotografica pronto a scattare insomma può essere mal visto quindi insomma io poi quando quando sono stati in località con il drone cioè lì bisogna stare attenti perché chi magari deve fare un documentario non può fare a meno di farsi notare ma allora vai con scorte accompagnatori insomma cerchi di informarti prima c'è sempre un rischio ci può essere io incontrato fotografi che stavano lavorando sì ecco è bello che tu non occupandoti di audiovisivi ma essendo uno scrittore puoi andare molto libero cioè spesso ne c'è la macchina fotografica però tante volte non me la sono portata dietro infatti perché francamente è come un distintivo perché già quell'oggetto lì non se potrebbe comprare nessuno e poi fa capire anche tante cose di te e perché sei lì quindi insomma io poi è girato a piedi di notte in mercati in paesini in africa in asia posti veramente molto molto piccoli e insomma mi è andata bene devo dire però bisogna stare anche un po attenti a come come ci si presenta poi senza dimenticare una cosa che poi noi ci abbiamo sempre oddio dove vai a finire no ma dove vai ma passatene a casa cioè noi viviamo in città in cui ci sono le stesse condizioni di disagio e quindi pericoli no ma io leggevo leggevo la lolly planting sempre della io vado in costa rica sono molto hipster in questo dice a occhi ai tassisti perché non mettono il tassametro bisogna dire prima quanto paghi è uguale in italia per noi italiani non è che anche noi non andiamo diciamo anche come dicevo prima con quella presentandoci in quella maniera lì in tanti parti italiane c'è lo stesso discorso ci sono appunto zone di marginalità sociale di grande disagio sociale in cui tu non vai a fare le foto per fotografare i poveri cioè lo stesso discorso e se lo stesso discorso a san paolo e anche in tante città italiane insomma quindi è un fatto di delicatezza che poi come dire non è che un trucco un travestimento che io poi non arrivo lì con l'interesse voglieristico io arrivo con l'interesse quello che abbiamo detto nella puntata scorsa all'inizio io sento che c'è una mancanza nella società in cui vivo nella città in cui vivo manca qualcosa mancano degli spazi di solidarietà mancano degli spazi per pensare delle alternative e questo mi porta a incuriosirmi di questi posti anche lontani non è che arrivo lì per riempirmi la card di foto da far vedere col proiettore tra tutti questi pellegrinaggi quali sono le esperienze proprio tue che hai vissuto tu i rituali che ti hanno veramente più cambiato ma allora parlando di rituali diciamo in senso stretto probabilmente ma viene in mente l'india sicuramente in tanti casi ho partecipato in tanti tempi indiani e delle funzioni rituali e insomma effettivamente sarà che avevo appunto una fascinazione per quella cultura è stato il primo paese extereuropeo dove ho viaggiato mi ricordo con più dei miei trent'anni tra l'altro con un'infezione intestinale nel quello che sa quante volte tanto per celebrare e aprire i giochi in un posto molto isolato dell'india ma insomma sicuramente in tanti santuari indiani per esempio appunto nel tamil nadu delle delle esperienze molto forti perché appunto ecco lì i tuoi occhi vedono come dire a nudo una disuguaglianza un disagio al tempo stesso una reazione che noi spesso non vediamo perché viviamo in spazi in cui tutte queste cose sono un po allontanate quindi questo per esempio un altro caso questo ne parlo nel libro quando partecipato a questa performance dell'umbanda l'umbanda è una versione di questi rituali afroamericani una realtà è un è una ricreazione denovecentesca di una cosa che ha messo insieme bianchi e discendenti degli schiavi e lì è stato molto molto forte perché sono stato pienamente coinvolto nella nella cosa e sentivo proprio fortemente il coinvolgimento anche di cosa si trattava ma la danza manda c'è poca danza l'umbanda c'è poca danza è soltanto è uno spazio sacro in cui accompagnati dalla percussione e guidati da un sacerdoto da una sacerdotessa che viene chiamato padre del santo madre del santo si cade in quest'altra personalità tradizionalmente sono le orisha le divinità di origine africana ma poi ci sono divinità di origine india e in generale si parla di spiriti i più diversi che si impadroniscono di te quello che succede è che le persone è curioso perché poi sembra quasi un gioco per bambini come dico nel libro ogni persona incarnano di queste figure che possono essere la dea della bellezza quindi seducente e così via oppure il dio della guerra che comincia a urlare e a stringere i pugni e così via e ognuno cerca un po il proprio ruolo e anche il sacerdote ti ti dice qual è il tuo orisha e insomma è una cosa e tra l'altro appunto lì è come dire il proposito di setting che è una parola che non abbiamo usato ma che è fondamentale e tecnicamente si usa l'anglicismo perché è importante anche nelle esperienze psichedeliche cioè lì era una casa in cui sono stato accolto era una situazione molto rilassata molto bella in cui non c'era denaro per lo mezzo ed era un posto poverissimo e questo ovviamente come dire mi ha veramente ripagato di tanto perché ho capito che tutto questo è vivo questo bisogno di solidarietà poi per finire posso citare l'esperienza che ho fatto in in brasile con questa questi unicuin che sono una popolazione che appunto vive al confine tra il brasile e il perù e perché lì ho avuto una lunga mediazione sono andato a incontrare lo sciamano diremmo noi oggi il capo di questa di questa comunità indigena che una comunità di poche case di poche palafitte lungo un fiume che mi ha raccontato un po tutte le loro tradizioni tra cui anche il mito che racconta come loro hanno scoperto questa pianta che ti fa vedere quella che loro chiamano la foresta incantata è una sorta di culto di prometeo perché promete ruba il fuoco lì c'è un umano che ruba il segreto della pianta e poi mi sono trovato in questa situazione in cui due comunità che vivono lungo questo fiume che avevo le persone conosciute camminavo durante il giorno mi fermava le case bambini adulti si sono riunite di sera per iniziare questo rito e sono andate avanti tutta la notte a ballare a cantare a suonare e ma come si sono presentati cioè prima erano un po di pinti insomma un po di penne loro le indossano ma lì era proprio erano trasformati e c'ero c'è non c'era una cosa turistica lo facevano po perché erano proprio immaginati perché poi lì tu riconosci che gli indiani e nord america sono la stessa cosa perché hanno queste corone di penne sono tutti rossi e si vedeva proprio che per loro era al tempo stesso una cosa sacra è una festa quelle due cose che noi viviamo un po separatamente perché per esempio rimorchiavano alcuni ragazzi chiaramente a un certo punto della notte si vede che si abbracciavano così ballavano però allo stesso tempo per loro un'esperienza sacra stanno lì alternano la danza a sedersi chiudere gli occhi e vedere questa foresta incantata che poi è la foresta che li circonda che si manifesta a loro attraverso la pianta che loro stessi hanno ingerito che il dmt c'è che la l'ayahuasca l si è sostanzialmente l'ayahuasca loro lo chiamano appunto nishi pae che vuol dire nella loro lingua l'incanto della figlia della foresta pensa che bello che la pianta e come come l'assumono bevendo un decotto si si la radice la foglia si è quello e insomma ed è l'unico l'ho cominciato l'unico occidentale eri wow veramente due ma insomma non c'erano turisti e ma era un tuo amico l'altro ho trovato lì anche tu non era mandati insieme a ok ok quindi eravate solo voi in sostanza no veramente guardano poi ho scoperto che ci sono delle gruppetti coppie oppure due amiche abbiamo incontrato a un certo punto brasiliani che sanno di questa cosa e fanno una sorta di turismo indipendente arrivano lì bussano alla porta di qualcuno che nella città più vicina sa di queste cose che fa da mediatore ecco come avviene in tutto il mondo c'è un piccolo business nel senso che ti chiedono una cifra cospicua e ti portano e ti fanno stare sei giorni lì io ci sono andato dicendo che dovevo fare un libro eccetera e ovviamente però ho dovuto fare la spesa per tutti pagare il carburante sulla barca insomma è stata una spesa abbastanza importante però insomma ripeto quello che ho trovato lì come facevi a saperlo che c'era lì questa tribù e diciamo in questi anni uno più va avanti più studia si si interessa volevo tornare ero già stato in brasile volevo andare da anni quando è cominciata la pandemia in realtà già avevo questo piano visitare una comunità indigena che lì sono come dire riconosciuta la costituzione degli spazi in cui bisogna entrare autorizzati per vedere un po come stavano le cose poi a un certo punto quando ho potuto organizzare questo viaggio attraverso degli amici che nel frattempo mi sono fatto colleghi anche all'università come dire attraverso varie mediazioni ho trovato una rappresentante di una comunità indigena che lì fanno politica quindi questi rappresentanti vuol dire che vanno poi nei parlamenti degli stati per cercare di difendere i diritti di questa gente quindi poi sono persone che vivono anche in città delle volte e quella mi ha detto guarda puoi andare qua io vengo da lì ma poi se ti interessano le piante devi andare nello stato di acre e c'era il numero di telefono di uno di questi ma date il numero e l'ho chiamato e ma che lingua parli con un indigeno portoghese con questo qui che mi sono messo prontamente a studiare da solo prima di fare questo viaggio perché ovviamente lì era lingua dello stato brasiliano gli uni queen hanno una lingua propria però ovviamente studiano il portoghese chi più chi meno lo parlano del resto anche il mio era rudimentale questo qui lo parlava fluentemente ha fatto si è laureato insomma in università brasiliana e perché poi spesso appunto queste gerarchie come dicevamo prima no sono persone che conoscono anche il nostro mondo conoscono i propri interessi mondani e al tempo stesso sono i discendenti gli sciamani quindi insomma a meno di non andare dalle tribù incontattate che ancora ci sono da qualche parte della foresta amazzonica questa è la situazione no tornando a quello che diciamo prima se bisogna cercare quel lato autentico che però c'è e quindi tu mi chiedevi che esperienze cambiano la vita sicuramente ho cominciato con l'india trovando qualcosa che insomma l'india un microcosmo in cui tutto questo sommamente vitale e infatti poi si rinnova in forme anche politiche e ho finito per il momento con questa esperienza qua e sicuramente mi ha rassicurato sul fatto di continuare la ricerca in questa direzione sia ma con la tua idea cioè è evidente che c'è una tendenza nostra che abbiamo noi occidentali che abbiamo smarrito cioè se ci sentiamo sperduti senza il contatto con queste questi rituali queste danze questi momenti e loro che invece quando arrivi tu parlano la nostra lingua quindi così si fanno il business come come che si riusciranno a ibridare queste due cose perché vabbè negli stati uniti per esempio anche nelle ultime elezioni mid term non so quanti altri stati hanno liberalizzato alcune sostanze appunto psichedeliche e si vere che si va ancora direzione c'è una certa elite intellettuale statunitense anche si parte sempre dall'elite quindi ricchi intellettuali se c'è una moda un ritorno no a questi tipi di dinamiche e però allo stesso tempo forse manca poi il substrato culturale come si inseriranno cioè diventerà solo una cosa medica mi auguro di no quello che dobbiamo sapere che allora intanto diciamo nell'entrare anche in queste questioni cercando di conoscere ho capito subito una cosa innanzitutto anche da studioso la storico non bisogna mitizzare una tradizione pura una tradizione remota alle cose antiche mirce eliade questo importante essere delle regioni diceva che gli sciamani ormai si erano degradati e poi tra l'altro prendevano sostanze droghe mentre c'era stato uno sciamanismo originario in ormai inattingibile che veramente comunica con i dei insomma queste sono cose un po è un'idea di tradizione con la t maiuscola che ci deve sempre fare insospettire perché in realtà c'è tutto storico tutto si evolve allora proprio perché tutto si evolve da una parte non troveremo facilmente la purezza di una tradizione non troviamo dionis oggi no ma d'altra parte dobbiamo pensare che abbiamo il compito di far rinascere e di rigenerare continuamente le tradizioni che in effetti poi quando ci sono questi incontri culturali danno luogo a qualcosa di nuovo che in parte è antico in parte a nuove forme per esempio questo avviene appunto non a caso in due paesi come il brasil e gli stati uniti che hanno una lunghissima storia di schiavismo hanno una lunghissima storia però d'altra parte come dire cioè sono paesi di immigrati in larga misura e di fusione e questo diciamo ovviamente non ha creato per niente la società ideale però sicuramente ha dato luogo a degli esperimenti che sono interessanti perché ti fanno vedere primo citato l'umbanda lì a un certo punto è una cosa brasiliana quella se la sono inventata dicendo che era un rito antichissimo ma in realtà se la sono inventata nel novecento per mettere insieme gruppi i bianchi volevano partecipare a queste cose afro e al tempo stesso insomma c'era la volontà pure di essere integrati da parte di questi terreiros che erano questi gruppi degli afro americani hanno dato luogo all'umbanda dove trovi bianchi mulatti qualsiasi cosa e sono spazi ripeto per tornare al tema di prima di grande accoglienza in cui ecco solitamente l'identità sessuale sociale sommamente come dire libera per essere esplorata quindi noi dobbiamo sapere questo dobbiamo sapere che quando poi alcuni contenuti circolano per esempio tu hai citato le sostanze psichedeliche c'è il compito di crearlo questo sfondo di conoscere è chiaro che tu è chiaro che noi ignoriamo tante tradizioni che originariamente sono state il luogo per esempio nelle americhe di origine e di codificazione di queste esperienze ma non c'è bisogno diciamo di ripetere tutto quello c'è bisogno sicuramente di conoscerlo quello sì è perché c'è questa simmetria che dicevi tu poi spesso i discendenti dei nativi americani si sono occidentalizzati ma noi non conosciamo la loro tradizione quello sì però nello stesso tempo dobbiamo sapere che a un certo punto si creeranno delle 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 ricombinazioni e lì bisogna stare attenti soprattutto a quello che ci interessa c'è poi la valenza che le cose hanno ecco se se diventa ancora per tornare al discorso della meditazione che vale un po per tutti questi altri se diventano le cose un business un dispositivo di controllo sociale o psicologico una pura e semplice medicalizzazione del malessere che non va alla radice di quel malessere neanche la pone in questione che magari è il fatto appunto che non conduciamo in fondo una vita in cui siamo pienamente liberi come potremmo essere senza fare male a nessuno e allora c'è qualcosa che non va e quindi di fronte a tutte le possibilità che si offrono bisogna pensare a questo tutto nella lunga storia abbiamo alle spalle io l'ho un po l'ho esplorato questo anche l'ho raccontato nel libro abbiamo esempi di tanti casi anche di degenerazioni di tante cose e le sostanze psicoattive da questo punto di vista sono veramente il fuoco cioè nel senso che hanno una grandissima potenzialità ma al tempo stesso proprio questo crea dei rischi tu pensa soltanto a cosa è diventata la coca che era che è diciamo una sostanza che viene usata abitualmente sud america delle popolazioni che vivono là anche solo per farsi passare il mal di testa per l'altitudine a quanto ha distrutto interi paesi come la colombia quando poi è diventata la base di un business peraltro con tutta la questione della legalità non legalità perché poi insomma si torna sempre al punto che gli stati alterati di coscienza sono stati di disordine e questo disordine può ovviamente deragliare quindi io dico è molto importante quindi confrontarsi con questi temi intanto conoscerli sapere che questi bisogni ce li abbiamo tutti e quindi come dire rischiare anche poi di di cadere in delle in delle trappole perché non ci siamo neanche posti la questione di di illuminarci su questo bisogno e come è stato variamente interpretato e codificato e così via tutti i rischi e questo può comportare mi ricorda tanto quello che dici anche non so se l'hai letto l'ultimo libro di terzani ultimo giro di giostra che voi peregrinava per tutti i posti più assurdi per trovare una cura al suo male quello è un male fisico leggibile attraverso le radiazioni che aveva un tumore e anche lui continuava ad avere questo atteggiamento ambivalente ma mi sta perculando autentico senza soluzioni e continuità fino alla fine c'è proprio non c'era possibile non è mai riuscito di fare io sono un fiorentino in quanto fiorentino sono un san tommaso non ci credo c'è alla fine mi sta fregando quella roba lì bello che lui era cosciente ma non li faceva vivere assolutamente bene queste queste esperienze mentre invece quello che doveva incontrare te caspita c'è però questa ambivalenza io quel libro ho letto tanti anni fa e mi aveva colpito proprio questo proprio questo perché insomma il l'assetto iniziale anche per me è quello dicito canta adesso no 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 voglio dire così piano piano posso impararlo anch'io senza leggerlo tutte le puntate dico l'illuminismo la capacità di essere autonomi avere un pensiero critico di non credere in qualcosa che non hai i fondamenti per crederlo c'è però diciamo una cosa che poi in fondo terzani anche aveva un po capito in quel libro perché 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 si è messo a fare questo gioco non certo per scrittare i retriti in cui gli dicevano ti stai purificando gli davano delle cose che li facevano pisciare liquido nero poi lui dice giustamente qua mi stanno dando non è il nero che la mia impurezza mi stanno dando delle erbe che mi fanno uscire il nero ed è una fregatura però lui perché andava in tutti questi posti perché poi in realtà questa ricerca e chi poi ci ritrovava lì interessava e il punto qual è che poi rimane fuori se noi d'altra parte riduciamo tutta la razionalità l'esperienza cioè il fatto di fare certe esperienze di vivere certi stati e quello che ti possono aprire come questioni e anche diciamo altrettanto importante prima ancora del fatto di dire però qui dietro l'angolo c'è un inganno c'è un eccesso sì voglio dire certamente è sempre così ecco io potrei dirti per esempio della popolazione della comunità unicuin che ho frequentato sono andato a trovarmi all'altro capo del mondo quest'estate con un enorme sacrificio di tempo e salute mi ha appunto al confine fra il brasilio e il perù a questo che dicevi prima si quella dicevo prima potrei dire ma insomma lì poi dopo quando sono andato a toccare con mano come sempre mi sono reso conto che ci stanno i poveracci che sono delle persone fantastiche lì in particolare quella comunità veramente guarda delle persone di una dolcezza di una gentilezza incredibile sembra davvero vedi questi bambini che si fanno il bagno ti sembra una cosa paradisiaca e poi ci sta il capovillaggio che comunque si tiene tutti i soldi impediva di fare delle donazioni dirette faceva da filtro c'è una pancia così e neanche puoi offrire un biscotto a qualcuno e allora uno potrebbe dire e vabbè c'è questa cosa qua quindi non ci non me ne frega niente non ci vado in questo posto è rovinato però mi sarei privato di quell'esperienza lì bellissimo e allora secondo me anche terzani poi diceva così però intanto ci è andato nei post le ha vissute le esperienze e sicuramente queste due puntate avranno fatto venire voglia a tantissimi di fare queste esperienze in sicurezza ovviamente questa parola in sicurezza dopo tutto il dionisiaco che si hanno detto ti stona un po diciamo con un ibrido come tu e mi è piaciuto molto appunto che hai fatto sulla razionalità perché è interessante perché qua si aprono appunto tante ipotesi e possibilità di di farneticazione perché nel mondo della quando si parla di stati alterati di coscienza appunto contro il mainstream eccetera poi si si apre tutto tutto 7 ma abbiamo una grande tradizione nostra autoctona di dittatori in cui appunto poi tornando a canello da dove siamo partiti ernesto de martino lo ricordo nel libro lui quando scriveva queste cose a un certo punto aveva presente che c'era stata una guerra in europa e diceva a un certo punto parlando di magia del potere del magico dell'importanza di capire il magico che continuamente rinasce il nostro mondo attenzione hitler sciamanizza va in europa cioè in sovrapponeva delle idee di mito e delle idee di magico per uno scopo distruttivo attecchendo su un terreno di grande bisogno di grande malessere e su quella fragilità di cui parlavo prima per cui capisci è un'ambivalenza che noi storicamente abbiamo abbiamo vissuto da un momento all'altro si ripresenta distruttiva quindi per cui diciamo cercare le esperienze e tenere al tempo stesso il cappello della razionalità ci sta ambivalenti sempre comunque paolo grazie ripeto vabbè il tuo libro ha detto mille volte il dio che danza viaggi trans però magari ne stai scrivendo uno nuovo ci vuoi dire cosa tratta ma è prima il bazar atomico ma io cioè i miei libri accademici di cui non parlerò invece sto scrivendo un libro nuovo che simile a questo perché sempre si basa su viaggi prima abbiamo parlato un po di meditazione di natura perché questo libro a che fare con il rapporto con la natura e dunque è un grosso tema è una grande ricerca e questo è ancora più geograficamente espanso si parla di racconti con animali con le piante e con luoghi di tutto il mondo in un momento in cui ovviamente quel mondo naturale no saranno che attacco è sotto attacco grazie paolo c'è anche un sito tuono perché si vuole personale paolo pecere punto it sì 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 grazie veramente di qua grazie grazie a voi mi hai aperto devo vedere dalla puntata perché ho due tre spunti me li voglio ripassare adesso chiediamo i microfoni e fortunati i tuoi tuoi allunni tu fai professori si insegno storia della filosofia che ti ascoltano e grazie ancora grazie bellissime domande interessante anche per me ripensare certe cose grazie paolo grazie ciao a tutti ciao a tutti questo è il bazzar atomico